Hi guys, ciao ragazzi, fala galera, hola chicos, benvenuti a Extreme Races numero 6 ragazzi partiamo subito qui con tantissimissime persone in questa gara chiamata Tomorrowland e con noi anche CCC10, però non è nel party, nel microfono, è qui in gara con noi e con altri amici italiani da tutto il mondo partiamo subito così, spirali in alto nel cielo e noi ci buttiamo, ci schiantiamo proprio diretti nel muro intanto Ivan 25-25 ci è riuscito anche Alejandro se non sbaglio, dobbiamo riuscirci anche noi assolutamente ora è il momento raga, però non possiamo più sbagliare eccoci qua la prima alfatta, c'è gente che ci tenta di cittare, non posso sbagliare ora, ok perfetto e qui dobbiamo tornare indietro, quindi è tutto questo ragazzi, tutto avanti e indietro, ah mi aspettavo qualcosa di più però vabbè proviamoci raga, in questa Tomorrowland, ci dobbiamo riuscire, dobbiamo riuscire dobbiamo anche la registrazione di Rockstar Editor salta un po' l'auto ragazzi, salta un po', non so perché dai riproviamoci devo stare concentrato raga, guardate come salta l'auto porca Eva, su, 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 su ok il primo è fatto ragazzi, concentrazione molto difficile da tenere l'auto, ok perfetto ci siamo, ora qui tutto in salita dovrebbe essere semplicissimo e infatti, e infatti dovrebbe ragazzi dovrebbe, siamo in terza posizione abbiamo 30 secondi da Eva che addirittura ci ha doppiato ora, non so come ma ci ha doppiato dobbiamo assolutamente recuperarlo raga qui torniamo indietro, se facciamo tutto diretto potremmo anche pensare di recuperarlo vediamo un po' se ci riusciamo raga stiamo al secondo giro, sperando che Eva non chiude siamo secondi in questo momento dobbiamo farla la prima raga ok ci siamo la prima la prima spirale è fatta ok anche la seconda ragazzi ci siamo, abbiamo sperato il ccc10 qui giriamoci così siamo in seconda, no che cazzo di sfortuna, avevo proprio nel buco lì e andiamo a finire proprio dentro al buco vabbè proviamoci ancora siamo quarti addirittura ora ragazzi no, quarti no, non mi piace sta cosa non mi piace sta cosa raga, dobbiamo arrivare almeno secondi Ivan ha concluso in prima posizione siamo quarti secondi, secondi, perfetto, perfetto mi va bene la seconda posizione abbiamo iniziato la gara in una maniera obbriosa oscena direi quindi per me il secondo posto ci sta alla grande lo accettiamo, lo portiamo a casa e anzi così tag life lo chiudiamo in retromarcia ragazzi e ci vediamo subito alla seconda gara eccoci qui ragazzi alla seconda gara siamo quasi 25 persone ragazzi col contatto quindi cioè con le collisioni guardate qui che casino si prospetta io cercherò di andare più veloce possibile da quel numero uno guarda che bastardo questo guarda quello no vabbè lagga pure però guarda questo da dove compare dall'aldilà andiamo 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 levati davanti al cazzo con uno stazio intorno guardateci buono così buono fa niente fa niente fa niente l'importante è andare avanti l'importante è sballare no ragazzi l'importante guarda questo di prepotenza pro levati levati dai siamo dodicesimi ragazzi eravamo primi prendiamo un po' di scia prendiamo un po' quello che sta facendo qualche stanto qualche trick impossibile vicino al ponte ci siamo grandissimo sorpasso in volo oh no non voglio prendere questo ok perfetto neanche questo voglio prendere perfetto ancora così scusami chi è questo ciccicino no alejandro no 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 dai dai veloce 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 recuperiamo c'è in primo posto ciccicino ragazzi che è qui con noi in playlist lo sapete guardate questo da dietro cioè non puoi superarmi devi fare il bastardo c'è lo stanto ragazzi noi ci facciamo passare lui che laggava pure tra l'altro oh ragazzi forse non dovevo non dovevo frenare siamo in 21 esattamente c'è questo davanti speriamo che si levi però credo di no ok ragazzi però forse cade oh c'è lo switch così stupendo no cavolo bellissimo stanto ragazzi ma non è così facile proviamoci ancora di nuovo ok questa parte qui è semplice questa è una switch praticamente vabbè non è non è difficile ragà bisognava solo un po' un attimino rallentare qui cos'è ok perfetto perfetto bellissimo una gara di 6 in 1 stupenda ragazzi siamo al nono posto non siamo messi benissimo ragà dobbiamo assolutamente recuperare cerchiamo di salire sui marciapiedi per andare un po' più veloci tagliamo qui le curve ragà ok nel frattempo siamo in 20 ha abbandonato una persona e siamo sempre al nono posto ciò che andava il più veloce possibile ragà come vedete cerchiamo di almeno di arrivare sul podio ok siamo sullo stunt c'era qualcuno lì quasi davanti lo stunt ok ragazzi dovrebbe essere semplicissimo mantenere ok devo mantenere così l'auto perfetto perfetto non mi dare non mi fa butti scherzi andava al terzo posto ragazzi possiamo crederci possiamo veramente fottutamente crederci il primo dista 42 secondi porca non ha sbagliato mezza volta Alejandro il secondo Sammy J qua è Sammy SJ è a 4 secondi quindi possiamo benissimamente recuperarlo Alejandro nel frattempo ha già chiuso complimenti bro in realtà potrebbe essere spagnolo quindi non so se mi capisce però puntiamo di nuovo al secondo posto ragà ok curva qui perfetta e andiamo ragà con lo sfondo dei grattacili di Los Santos no che bordello che ci sta come ha fatto quello a scansarti tutto sto bordello dobbiamo frenare per forza l'unica soluzione è questa però ci siamo sullo stunt bene così abbiamo una scia non ci siamo ci siamo ragazzi io spero io spero di essere secondo però no Sammy ha chiuso in seconda posizione e andiamo a prenderci questo terzo posto che male non fa però voglio assolutamente vincere cazzo ci vediamo alla terza ragà ciao